Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. Oggi l'ultimo saluto a Simonetta Puccini, erede e nipote del maestro Giacomo Puccini. Il funerale oggi in Don Bosco con tante persone, soprattutto autorità che hanno dato l'ultimo saluto alla Puccini con le note del maestro eseguite dal quartetto d'archi del Festival Puccini. Sarà dedicato proprio a lei la prima fila del Gran Teatro all'Aperto di Torre del Lago. Sentiamo. L'ultimo saluto a Simonetta Puccini è stato oggi nella chiesa Don Bosco a Viareggio, chiesa che la nipote del grande compositore frequentava ogni volta che si trovava in Versilia. La sua scomparsa, avvenuta a 89 anni al Policlinico di Milano dopo una breve malattia, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della cultura e dell'arte fino alle più alte istituzioni. E il lutto ha colpito anche la città di Viareggio, città che Simonetta ha molto amato in vita e dove viveva molti mesi dell'anno impegnatissima a custodire la memoria del grande nonno. Una vita, la sua, spesa a proteggere e valorizzare l'immenso patrimonio ereditato negli anni 70 dopo una lunga battaglia giudiziaria che ne riconobbe la paternità e l'autorizzò a portare il cognome del compositore oltre al riconoscimento come legittima erede. Prima della benedizione della Salma, il quartetto d'archi del Festival Pucciniano ha eseguito Crisantemi, composizione di musica da camera firmata da Puccini, brano che Simonetta amava particolarmente. Tra i presenti alla cerimonia funebre, curata dalla misericordia di Viareggio, i sindaci del Ghingaro, Tambellini e del Dotto, i rappresentanti delle altre amministrazioni versiliese, il prefetto, il presidente della provincia, i rappresentanti della fondazione del Festival Pucciniano e il grande tenore, Fabio Armiliato, una delle voci liriche più belle e apprezzate a livello mondiale che con Simonetta Puccini aveva da tempo un sincero rapporto di amicizia. La Salma di Simonetta Puccini, per sua espressa volontà, verrà cremata e tumulata nella cappella della villa, in riva al lago, insieme alle spoglie del grande nonno. Intanto, la Fondazione Festival Pucciniano e l'amministrazione Viareggina hanno deciso di intitolare la prima fila del Gran Teatro in Riva al Massaciuccoli proprio a Simonetta Puccini. Dunque, oggi l'addio alla nipote del maestro, ma qual è l'eredità culturale per la città di Viareggio, per tutto il territorio della provincia di Lucca, della città di Lucca di cui era nativo Giacomo Puccini e soprattutto qual è l'eredità patrimoniale che resta in mano al nostro territorio? Ci sono tante opinioni, adesso si apre un vero e proprio dibattito. Sentiamo alcuni commenti. Che cosa significa per la cultura musicale internazionale la scomparsa di Simonetta Puccini? Il nome dice tutto, la nostra cultura, la nostra musica, la memoria, la memoria di quello che dobbiamo sempre ricordarci e di portare avanti anche per rispetto proprio alle persone che non ci sono più e per dare un segnale importante anche per il futuro, per il nostro paese, per la nostra musica, per la nostra vita. Perde soprattutto una persona che ha amato con enorme passione, non soltanto la musica del nonno, ma la memoria del nonno a tutti i livelli. Con la fondazione che lei ha poi costituito, con il museo che ha potenziato e con i progetti che aveva intenzione di realizzare per un ulteriore allargamento, proprio con l'intenzione di farla diventare un centro di studio internazionale. Questa donna mancherà a Via Reggio inevitabilmente ed è per questo che Via Reggio oggi porta la sua testimonianza. Ora ci sarà da difendere poi la proprietà della villa di Torre del Lago con la speranza che rimanga al comune di Via Reggio? Vabbè, questi saranno problemi che affronteremo in seguito. Intanto oggi, come dire, raccogliamoci e ricordiamo questa donna che ha dato molto alla città. È necessario semmai coordinare tutte le attività che sono inerenti a Puccini e fare in modo che ci sia un'azione comune, condivisa, di valorizzazione del territorio, secondo l'opera del maestro. E del futuro della promozione del brand Puccini a Lucca in Versilia parleremo giovedì sera. Botte risposte in diretta alle 21, dopo l'omaggio doveroso a Simonetta Puccini. Voltiamo pagina adesso, parliamo di occupazione. Notizie positive arrivano dalla Camera di Commercio. Da dicembre a febbraio 2018 previste 5.890 assunzioni, secondo Union Camere, molte di queste anche in Versilia. Sentiamo. Nel corso del periodo dicembre 2017-febbraio 2018 le imprese della provincia di Lucca prevedono di assumere 5.890 unità. La previsione arriva dal progetto Excelsior, realizzato da Union Camere, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e Sistema delle Camere di Commercio. Il 32% delle entrate alle dipendenze sarà con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il restante 68% sarà a tempo determinato o con altri contratti di durata predefinita. Le imprese della provincia prevedono inoltre di riservare ai giovani under 30 il 33% delle assunzioni programmate, mentre il 15% è esplicitamente rivolto a figure femminili. A livello territoriale, 3.290 unità dovrebbero essere assunte da parte delle imprese di Piana Mediavalle Garfagnana, in Versilia 2.600 persone. Con riferimento ai possibili settori d'impiego, il commercio nell'area interna e il turismo in quella costiera confermano le più elevate richieste di personale. Nel manifatturiero si segnala invece una significativa domanda da parte di metalmeccanica ed elettronica, seguite nell'area interna dall'industria della carta e dal tessile abbigliamento, nell'area costiera invece dal legno e mobili. In relazione ai titoli di studio, nel trimestre si rileva una maggiore domanda di laureati diplomati nell'area interna, mentre in quella costiera è richiesta una quota lievemente superiore di personale con qualifica professionale. La via del mare o asse di penetrazione, ieri ai nostri microfoni il consigliere regionale PD Stefano Baccelli aveva frenato escludendo contributi da parte della regione, oggi lo smentisce il suo presidente, il governatore Enrico Rossi, e c'è il commento durissimo del sindaco De Ghingaro contro l'ex presidente della provincia Baccelli. Il punto nel servizio. Come regione faremo ogni sforzo per contribuire al finanziamento e alla realizzazione di questo importante asse di penetrazione urbana. Così il presidente della regione Enrico Rossi smentisce in una nota il consigliere del Partito Democratico Stefano Baccelli, che ieri ai nostri microfoni aveva escluso un contributo della regione per la via del mare, ovvero il terzo lotto dell'asse di penetrazione per la Darsena via Regina. Fiducioso, per le parole di Rossi, il sindaco De Ghingaro, che attacca senza mezzi termini il consigliere democratico. Io mi fido del governatore Rossi e soprattutto non mi stupisco della presa di posizione del Partito Democratico per bocca di Baccelli, perché in questi due anni che è in regione toscana Baccelli non solo non ha fatto nulla per Viareggio né per la Versilia, ma ha sempre contrastato tutte le iniziative che noi abbiamo portato sui tavoli regionali. In ogni caso il Comune dovrà affrettarsi per gli strumenti urbanistici e arrivare a un progetto esecutivo? Ma questo certamente, c'è un percorso amministrativo da fare che doveva essere avviato con l'atto di indirizzo per individuare il percorso, lo abbiamo fatto, a febbraio faremo il regolamento urbanistico, lo adotteremo e poi dopo le osservazioni lo approveremo. A quel punto saremo in grado di redarre il progetto preliminare e definitivo insieme, accedere ai finanziamenti che la regione, per bocca del governatore, ci ha assicurato e provvedere a fare il progetto esecutivo e la gara. La pagina di cronaca, incidente stradale nel pomeriggio sulla via Sarzanese a Pietrasanta, località Baccatoio, a finire in ospedale senza gravi conseguenze. Per fortuna una donna di Pietrasanta, per cause ancora da accertare, da parte della Polizia Municipale arrivata sul posto, la conducente del veicolo nel percorrere la strada direzione Camaiore-Pietrasanta, urtato contro un ostacolo fisso posto sulla sua destra. L'auto, come vedete, ha finito la sua corsa sul fianco sinistro. La donna, residente a Pietrasanta, per precauzione, è stata condotta all'ospedale unico della Versilia. A Viareggio, famiglie, genitori, ragazzi delle scuole, sul piede di guerra per il servizio, mancato servizio di scuolabus. Sentiamo i particolari. Il declino della città di Viareggio si è consumato in una manciata di anni e per mano di coloro che avrebbero dovuto amministrare al meglio, come buoni padri di famiglia, la nostra comunità. Così non è stato e tra le tante cecità amministrative una delle ultime beffe per le famiglie fu la soppressione del servizio scuolabus per i bambini delle scuole cittadine. Tale prestazione nel comune di Viareggio era assicurata a tutti da oltre 30 anni. Poi l'impennata della spesa per il trasporto degli studenti ha costretto molti nuclei familiari a rinunciare al servizio. Oggi la protesta davanti alle scuole. Viareggio ha abbandonato questo servizio perché non ha voluto riorganizzare e ridurre i costi, lavorare sulla riduzione dei costi, ma ha aumentato delle tariffe. Se si pensa che la fascia ISE sopra 12.000 euro, che era 25 euro al mese, è stata portata a 75 euro al mese con un aumento del 200%, è chiaro che poi i genitori, anche chi aveva più di un figliolo, ha dovuto abbandonare questo servizio. Non si può intralciare il traffico davanti alle scuole incrementando oltretutto il livello di inquinamento in aree sensibili. La politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo su quello privato, individuale. Ma al di là delle polemiche per la soppressione del servizio, resta il fatto che quel pulmino giallo che portava e prelevava i nostri figli offriva un buon servizio, dando affidabilità ai genitori e un po' di allegria ai bambini. Se i bimbi vogliono andare a fare una gita, a vedere un museo, ma come fanno? Li devono accompagnare i genitori, devono prendere delle ore di lavoro. E quindi come fanno? Quindi è un servizio essenziale questo qui. Visto che non ci abbiamo più i nonni, dobbiamo in qualche modo aiutare. Cioè è la comunità che deve aiutare, è il comune che deve aiutare. La politica e lezioni per il rinnovo del Parlamento dietro l'angolo definiti i nuovi collegi, il nostro territorio, Versilia, ma l'intera provincia di Lucca viene spacchettata nel nuovo sistema. Sentiamo tutti i particolari. Sarà una provincia di Lucca frazionata, quella che si presenterà le urne alle prossime elezioni politiche previste per l'inizio di marzo. Il governo ha ufficializzato i collegi elettorali che vedono il nostro territorio spacchettato per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. La mappa dettagliata dei collegi in cui è stata suddivisa la Toscana, che porterà a Roma 38 deputati e 18 senatori, è stata predisposta dall'Ufficio Osservatorio della Regione. Una geografia mutata rispetto a quella del Porcellum, con cui si votò nel 2013, 2008 e 2006. Il Rosatellum bis, il nuovo sistema elettorale, prevede come noto collegi uninominali, dove si elegge un solo parlamentare, il più votato, e plurinominali, dove si eleggono più rappresentanti in proporzione ai voti presi dai partiti. Per la Camera dei Deputati, nell'uninominale, la Valle del Serchio, Viareggio, Massarosa, Lucca e La Piana saranno nel collegio 9, Alto Pascio e Monte Carlo invece con Pistoia, mentre la Versilia Storica e Camaiore saranno nel collegio di Massacarrara. Nel plurinominale, tutta la provincia formerà un collegio unico con Massa, Pistoia e Prato. Più semplice è il quadro per il Senato della Repubblica. Nell'uninominale, Lucca è unita a Massacarrara. Nel plurinominale, saremo nel Maxi Collegio della Toscana Nord. Questa, dunque, è la mappa dei collegi. Quanto ai nomi dei candidati, ancora nessuna ufficialità. Nei giorni scorsi, il senatore uscente del Partito Democratico, Andrea Marcucci, aveva dato piena disponibilità a rimettersi in corsa al Senato nel collegio Lucca-Massa. Sul fronte centrodestra, sembra scontato il nome di Massimo Mallegni, Forza Italia, dimessosi a settembre dal sindaco di Pietrasanta, proprio per candidarsi. Lasciamo la politica adesso e vi presentiamo un documentario inedito che prende spunto dalle vicende, dalla vita del nonno partigiano Fortunato Menichetti. Sarà presentato giovedì sera alla GAMC e sarà trasmesso su Noi TV Versilia. Sentiamo. Un inedito documentario sulla resistenza in Versilia, realizzato da Franco Galimberti e Tommaso Lucchesi, verrà presentato giovedì 21 dicembre, alle 21, presso la Galleria d'Arte Moderna in Piazza Mazzini a Vereggio. Gli autori lasciano la parola al partigiano della resistenza, Fortunato Menichetti, versiliese doc, autore di alcune pubblicazioni sui fatti avvenuti in Versilia e figura emblematica che la rappresenta e che racconta di come oltre 70 anni fa riuscirono a liberare il nostro paese precipitato nel baratro della dittatura, della guerra, con gesta di guerriglia e ribellione. Che cosa si racconta in questo documentario? La vita di Fortunato Menichetti, il nonno partigiano, un vecchietto, se si vuol dire vecchietto, di 95 anni, che risiede a Torre del Lago e che ha vissuto negli anni della guerra proprio le cidi che ci sono stati qui in Versilia. Fortunato Menichetti, da tutti conosciuto come il nonno partigiano, ringrazia tutti i comuni, non soltanto versilesi, che hanno aderito e patrocinato l'iniziativa, la provincia e la regione toscana. Con la cronaca ci fermiamo tra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva. In primo piano c'è il nuoto, ormai chiuso da quasi un mese, il meeting di nuoto Mussi-Lombardi-Femiano, edizione 2017, la prima purtroppo fuori dalla Versilia. È tempo di bilanci per l'organizzatore Giovanni Battista Crisci. Sentiamo Roy Lepore. Il 2017 che sta per concludersi è stato un anno strano e allo stesso tempo pieno di successi per la società Versilia Nuoto che ha organizzato grazie alla costanza del patron Giovanni Battista Crisci il 41esimo trofeo internazionale di nuoto Mussi-Lombardi-Femiano e il 12esimo trofeo nazionale di Master che si sono svolti entrambi a Livorno, dunque fuori da Via Reggio e la Versilia per l'indisponibilità di impianti sportivi nella nostra zona. Crisci vuole ringraziare il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti che aveva cercato in qualche modo di poter mantenere la manifestazione nella zona ed anche ovviamente il sindaco di Livorno Filippo Nogarini e l'assessore allo sport Andrea Morini che hanno potuto ospitare quindi questa manifestazione dando la possibilità di continuare dopo tantissimi anni. La speranza adesso è che per il futuro la manifestazione possa proseguire. A Livorno hanno dato già l'assenso di poter ospitare la competizione quindi Crisci ovviamente in questi mesi sta cercando ovviamente delle soluzioni alternative ma se non ci saranno, Livorno sarà ancora una volta a teatro di questo meeting. Un grazie da parte di Crisci anche a Paolo Barelli il presidente della Federazione Italiana Nuoto che da tanti anni è a fianco del patron della manifestazione che vuole ricordare i tre poliziotti, i suoi colleghi purtroppo trucidati in un conflitto a fuoco da banditi a Querceta. Dal Nuoto passiamo all'Hockey su pista è stata decisa la data per il recupero di Eurolega per il Cgc il 30 dicembre si gioca con il Reus dunque cambiano un po' le date dei prossimi impegni. Sentiamo. Il team manager, il direttore sportivo del centro giovane di calciatore Alessandro Pardini comunica l'ufficialità dalla Cers del recupero della partita con il Reus che è fissata per il 30 dicembre a Santa Sardum de Annoia alle ore 20. La partita con il Valdagno che era programmata per il 28 è stata ufficializzata lo spostamento al 9 gennaio. Sabato ovviamente i bianconeri sono a TN e ancora una volta in trasferta ma il team manager bianconeri analizza anche la bella prova e la vittoria ottenuta dai bianconeri con il Sarzana. Era importante fare quest'ultima gara casalinga del 2017 in un certo modo siamo riusciti a dare un buon spettacolo abbiamo fatto una bella partita abbiamo visto delle reti anche veramente pregevoli sia da parte di Rey che da parte di Xavi eccetera sono veramente contento perché la squadra in questo momento sta veramente rendendo quello che deve rendere mi auguro che riusciamo ora anche nella trasferta di TN che è comunque una trasferta molto ostica a dire nostra e poi prima della fine dell'anno ci aspetterà anche quella trasferta importante in Champions a Reus e vedremo di affrontare anche quella con le giuste motivazioni la giusta lucidità e razionalità di gioco. E a proposito di TN c'è l'addio alla squadra veneta di Giacomo Tumelero che ha richiesto di lasciare anticipatamente per questa stagione 2017-2018 la prima squadra che milita nel campionato di Serie A ha presto dunque l'incontro con il Cgc Viareggio il direttore sportivo Paolo Meneghini sottolinea di aver compreso l'esigenza del giocatore di poter disporre di un minutaggio gara superiore alla fine dunque si recedere al contratto in anticipo. Lasciamo l'ok su pista adesso anche il CT azzurro campione del mondo Marcello Lippi alla cena dei cosiddetti Angeli del Viareggio si è tenuto da Miro martedì sera imprenditori professionisti e tifosi bianconeri un gruppo di amici che sostengono con iniziative il Viareggio Calcio ha raccontato molte cose Marcello Lippi spiega Cristiano Baroni numero 1 bianconeri ha dato consigli preziosi come fidarsi ai giovani possibilmente ai viareggini e investire sulle strutture per aiutarli a crescere anche un brindisi di Buon Natale per il mondo calcistico viareggino presente vedete per l'amministrazione comunale il consigliere Rodolfo Salemi e il sindaco non è stato presente ma ha portato il suo messaggio di vicinanza e invece giovedì 21 dicembre alle 18.30 la Torre Matilde la Viareggio Ultra ricorderà l'Ele Sant'Arcangelo lo farà alla propria maniera come sempre con affetto e calore società giocatori e tifosi bianconeri amici sono invitati a partecipare l'Ele qua e canta con gli Ultra è lo slogan che viene sempre cantato dai tifosi in tribuna allo stadio dei Pini per ricordare il tifosissimo del Viareggio che dopo una malattia è scomparso nel dicembre 2014 era appassionato di calcio e di hockey viene sempre ricordato in molte iniziative l'atletica adesso si è svolta domenica scorsa a Firenze la seconda prova del Grand Prix di Cross Toscano allestito dagli organizzatori uno straordinario percorso collinare tra gli olivi sopra la Villa Reale Fiorentina percorso molto muscolare, duro, faticoso con tanta salita e anche pericoloso in discesa ma sono stati buoni i risultati degli atleti del Centro Giovani Calciatori di Viareggio allenati da Francesco Mottola in particolare Gabriele Servolini Dario Sant'Ambrogio Zeghieie Giuntini e anche Giacomo Barsella Abramo Di Figlia e Federico Del Pistoia insieme a fratello Alessandro insomma risultati trasversali anche nel settore femminile Lisa Spazzafuma Alessia Baldi vediamo in queste foto alcuni momenti delle gare Con lo sport ci fermiamo è tutto tra pochissimo riprendiamo terza parte del nostro telegiornale Ben ritrovati terza parte del nostro telegiornale non abbiamo aggiornamenti di cronaca a Lido di Camaiore viene annunciata l'apertura di un nuovo centro medico specialistico Taglio del Nastro questo venerdì 22 dicembre con una madrina d'eccezione Anna Falchi ne danno notizia oggi gli organizzatori punta a diventare un centro di riferimento per la sanità privata versiliese sorgerà al secco località di Lido di Camaiore con molti professionisti inaugurazione che viene annunciata come un grande evento con le massime rappresentanze istituzionali del territorio è tutto davvero per questa edizione vi ringrazio per averci seguito a tutti voi auguro un buon proseguimento di serata a tutti a tutti